Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Allora raga benvenuti in questo nuovissimo video dello StarPryson Oggi continueremo ancora a vedere i vostri lotti Detto questo c'è come sempre un mega mi piace E ho spaccato E vabbè iniziamo subito Perfetto ragazzi eccoci qui Ci troviamo sempre nel nostro bellissimo, oddio bellissimo non tanto Però nel nostro lotto Nell'inventario già come potete ben vedere ho alcune cose che mi avete regalato voi Da Shadow Jackie abbiamo tipo un miliardo, una roba simile Non conto neanche gli zii, sono tantissimi Quindi tasto destro, grazie mille per il regalo E se non sbaglio era proprio un miliardo E infatti è aumentato di un milione Poi abbiamo invece da zio Luis, penso un altro miliardo O cento milioni, non so ora E poi abbiamo otto, 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 otto da Ediva Game Quindi grazie mille e sbam li abbiamo ricevuti Vi ricordo che potete mettere tutti i vostri regali qua dentro I più belli poi li andrò a prendere, appunto li mostrerò in video E a proposito di cose da mostrare in video Vi ricordo di tutti quanti di entrare dentro il server L'IP in descrizione Createvi il vostro lotto E costruite quello che volete In modo che poi lo faccio vedere, appunto, nei prossimi video Detto questo ragazzi abbiamo sempre un problema con la farm di BeaconBlock Perché è strapiena Proprio strapiena, strapiena, strapiena Ed è un problema Lo so, dovremo fixarla in qualche modo Ma non penso che lo faremo oggi Anche perché non ho tanta voglia, essere sincero Voglio soltanto prendere due ceste Mettere di nuovo qua Tipo le mettiamo qua vicino Dall'interno metto quello che mi droppate nei vostri lotti In questo modo ragazzi Almeno non faccio troppa confusione con i vostri regali Lasciamone in mente soltanto un piccone, un'accetta e le key Perfetto Ma ragazzi Ma io vedo qualcosa già là sotto Anche lì c'è qualcosa di particolare E anche qui vedo qualcosa di particolare ragazzi Quante cose avete fatto Direi adesso ragazzi di metterci quindi subito in fly E iniziamo con il tour dei vostri lotti Ok Iniziamo subito Raga Oh mio dio C'è scritto qua M Con un sacco di BeaconBlock Mamma mia quanti Vediamo cosa ha fatto qua dentro Ok c'è tutti i miner Che però Sono fermi Mi sa che ha finito il cibo Per i minions Possiamo vedere diciamo Tutto il suo continuo delle varie ceste Ok Comunque abbastanza carino il lotto Di certo Sempre meglio del mio Qua invece cosa abbiamo? Abbiamo una foresta Che cos'è? Oddio raga Oddio cos'è apparso Allora si entra da qui Esploriamo questo lotto Insieme Allora si entra da qui Poi che si fa? C'è un ascensore d'acqua E ma io voglio andare giù Perfetto Uh Carino come cosa C'è Ah ci sono le ceste qua dietro Guarda Carino come è fatto Dovrei farlo anche io nel mio lotto Per fare un pochettino di ordine Ma sapete che sono molto pigro E difficilmente lo andrò a fare Ma vabbè Comunque noi abbiamo error a fly Quindi possiamo salire velocemente Opla E siamo dentro il mega albero Uh una casa sull'albero Dovrei farla nella vanilla una casa sull'albero Solamente che non so se farò con un albero Che spona naturalmente Oppure creare noi un albero artificialmente Non so L'idea mi piace parecchio Ma sinceramente non so se farlo meno Comunque vediamo subito questa torre Uh Allora Si entra sempre da qui Ok quindi questa qui è l'entrata E Oh mio dio Ma è la mappa di tutti i vari lotti Questo qui è il lotto mio È il mio lotto questo ragazzi Uh Che figata Bella questa idea Allora sotto Vabbè Abbiamo diverse cose Come appunto la farm Di note block Poi qua cosa abbiamo Tutta la torre Blocchi da costruzione Ok Altra chest Va bene Uh Guardate cosa c'è qua dentro Torre e magazzino Vediamo soprattutto il magazzino Uh Ragazzi Mamma mia Andavo a scavare così in basso Guardate quanta roba Cioè E ancora continua a perdere di qua Antica miniere della torre Addirittura No vabbè Ma che figata Guardate cosa ha fatto nel suo lotto Fighissima come cosa Una porta What Ma È una forma di note block Fatta così Carina come idea Ok Adesso c'è qualcos'altro Beh una crafting Beh Ci sa ragazzi Per ora Direi che è il lotto Più carino Che ho visto In questo video Perché comunque È ben costruito Non c'è Quasi nulla Diciamo Che è inerente a me Però è bello È molto bello Devo ammetterlo Fk room Raga dove sto andando Ma Così Perché Così mi rappresenta Questa cosa Va bene Ok dai Usciamo fuori da questa mega torre Anzi saliamo al piano superiore Di questa mega torre Penso che si salga Per di qua Ok Eccoci qui Abbiamo tante librerie Ma è tipo una torre di un mago Fammi capire Ci vedo soltanto librerie qui A giro Saliamo 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 Dei letti Ok Giuro che un giorno Metterò ragazzi Un lotto Diciamo free to build Dove potete costruire voi E quello che mi andate a costruire Andremo poi a rifare Nel mio lotto ufficiale Figata la torre Uh un'armatura Che armatura è Una dark whip Ragazzi Ho un'idea Gli rubiamo adesso l'armatura E la andiamo a nascondere Quindi questa armatura Adesso Sarà Mia Se la rivolrai Dovrei venire nel mio lotto E dropparmi Un fogliettino di carta Con Fatto naturalmente da te Oppure anzi Un libro Fatto da te Dove mi chiederai Istruzioni Per andare a ritrovare Perché si Te la andrò a nascondere E te la nasconderò addirittura Off camera Così non puoi vedere Dove la vado a nascondere Si diciamo che sono abbastanza Cattivello oggi Ma continuiamo ragazzi A vedere altri lotti Allora Questo Uddio Eh Ha scavato abbastanza Ma 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 Raga quanto ha scavato Guardate Ma perché poi Oh mio dio Beh ci metterà un bel poco di tempo Ragazzi Per Riprendersi Cioè per scavare tutto quanto Ce ne vorrà veramente di tempo Comunque Voi andate adesso Verso questa direzione Perché ho visto Prima Insieme a voi Un lotto particolare Perché c'era un simbolo Che ho notato Uuuuh ragazzi Cosa sto vedendo Di chi è questo lotto Di chi è questo lotto Vediamo Lotto di superstar Pro 777777 Come metano 7777 Ok Cioè se stai leggendo Questo cartello Ti volevo dire Che sono molto vicino Al tuo lotto Eh L'ho notato PS il player con la casa Uguale alla mia Mi ha copiato Ah cattivone Ma in realtà Questa casa ragazzi Se non sbaglio È presa Da 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 un tutorial Può essere Sì Oddio di biscotti Oddio di biscotti Ragazzi Ragazzi Facciamo una cosa Se questo video Supererà Entro questa sera I 2500 like Gli andremo a rubare Nel prossimo video Tutti i biscotti Comunque dai Tralasciando la casetta Che comunque È molto carina Vediamo un pochino in giro Cosa ha fatto Allora Qui abbiamo La farm Di gettoni Oddio di ascia Che ha F160 Un breaking 60 Mamma mia Poi vediamo Cosa ha fatto Beh La mia bellissima Testolona Ci sta Ci sta Un mega beacon block Cosa c'è scritto Beacon beacon Ok Ah velocità Ancora quindi Dei piazzarli Capito Capito E qui ho fatto Il simboletto Del defcon No vabbè ragazzi È molto carino Mi piace Ha montato proprio Le proporzioni È preciso Bello Molto bello Ah ci sono dei cartelli qua Che c'è scritto Per M Sei il migliore Ciao C'è una sorpresa All'interno No vabbè Ragazzi Scaviamo subito Opla Uuu No Raga È pieno È pieno Di blocchi Di smeraldo No vabbè Li prendo tutti È una sorpresa Per me ragazzi Li prendiamo tutti Per fo Ho trovato Un lucky block Che è pure cattivo Che mi ha dato La nausea Quanta sfortuna ho Dentro proprio Dentro proprio la mia testa Comunque si Li prendo tutti Ah che bello ragazzi Raccogliere oggetti In questo modo È la cosa più bella Del mondo Cioè È bellissimo È bellissimo Raccoglierli così Voglio fare attenzionalmente A non rompere La testa Perché se no Poi è un piccolo problema E infatti L'ho rotta Perfetto Ok Aggiustata E continuiamo a prenderci Questo bellissimo tesoro Perfetto L'ho preso tutto Grazie mille Per questi Blocchi di smeraldo E adesso ragazzi Direi che Per oggi Il tour dei vari lotti Può anche finire qui Però direi che dai Un rank up Non andiamo a fare Quindi slash Rank up Confermiamo E sbam Eccoci qua Siamo al rank pro Dobbiamo fare un altro rank up Ma dobbiamo aspettare ancora 20 secondi E quindi nel frattempo Apriamo un explosive create Dai che forse Mi sento fortunato oggi Mi sento fortunato E abbiamo trovato Un tag Che non utilizzerò mai Ok 50 gettoni Non male Non male Dai 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 Eccoli qua Le cose più belle 250.000 Vabbè Non male Non male Adesso ragazzi Vai di rank up E siamo al rank God Perfetto Ma se facciamo slash ranks Quanti le man Uuuuh Ragazzi Noi dobbiamo stare adesso Ad epic E infine Al final Mancano gli ultimi due Rank Che costano veramente Un casino Quindi penso Che andremo a fare Ormai Nel prossimo Episodio Qui ragazzi Questo video Dello star prize Non finisce qui Spero vi sia piaciuto E vi ricordo a tutti quanti Di entrare dentro il server Ripeto Questa è in descrizione E costruite Tutti I vostri Lotti Detto questo Se ancora vi siete iscritti Al canale Vi invito ad iscrivervi Per farlo Basta che cliccate Nel mio bellissimo Faccioni di minecraft O anzi Nell'avatar Di jack sparro E se già l'avete fatto Potete cliccare Segui su adesso Per vedere un altro Mio video Noi ragazzi A questo punto Vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Bye bye